Occhi aperti, anzi spalancati, sulla versione cabriolet della Corvette Stingray. La meccanica è la stessa della Coupé, ovvero il nuovo V8 6.2 da 450 CV, disponibile con cambio manuale a 7 marce o automatico. La Convertible dovrebbe entrare in produzione in novembre, mentre la Coupé inizierà ad agosto. La Stingray viene presentata in anteprima mondiale a questo salone di Ginevra da Chevrolet, nella sua versione cabriolet, una macchina da sogno, la macchina più potente di serie mai proposta da General Motors sul mercato, 450 CV di potenza, un motore V8 da 6.200 cc, 0-100 in poco meno di 4 secondi, quindi veramente una vettura sportiva che rappresenta la massima essenza della performance, del design, del sogno e dell'iconografia, secondo Chevrolet delle vetture. La Chevrolet espone anche la versione elettrica della Citycar Spark, che sarà venduta in alcuni mercati europei a partire dal 2014, ed un ultimo restyling della captiva.